In questa lezione di chimica organica iniziamo un altro grandissimo capitolo della chimica organica, importantissimo capitolo, che è quello della risonanza, il fenomeno di risonanza, le strutture limite di risonanza, vedremo l'importanza di questo fenomeno e come rappresentarlo con le formule di struttura dovute. Allora, io dopo è scontato naturalmente che voi abbiate seguito il mio corso di chimica generale o comunque abbiate delle basi solide di chimica generale, quindi sappiate a perfezione farmi le strutture di Lewis, conosciate i composti inorganici principali e sappiate i concetti inerenti, l'elettronegatività e tutte le altre caratteristiche degli atomi, quindi l'andamento periodico e le caratteristiche periodiche presenti nella tavola periodica degli elementi, sono tutte cose che dovete conoscere perché se no qui avrete lacune in questo capitolo o anche nei successivi capitoli che affronteremo. Quindi se non sapete bene queste cose vi consiglio di andare a riprendervi chimica generale. Se non avete basi solidi richiedetemi il corso di chimica generale e andate a ripassare tutti questi argomenti. io nel mio corso di chimica generale ho già accennato il fenomeno di risonanza e vi avevo fatto, se ricordate, se non ricordate andatevi a prendere la lezione, vi avevo fatto l'esempio dello ione carbonato e con questo esempio vi ho fatto capire che cosa? Che tanti composti, tanti ioni e tanti composti non possono essere rappresentati solo e soltanto con una formula di struttura di Lewis, ma sono un ibrido tra più formule di struttura di Lewis. Adesso riprendiamo un attimino questo esempio, ve lo riprendo qui per farvi comprendere meglio, proprio dagli esempi che partiremo perché così capirete meglio. Allora, facciamo questo esempio, prendiamo quindi lo ione carbonato, lo ione carbonato a formula bruta CO3 2- perché ha due cariche negative, ecco però adesso vi faccio comprendere meglio. Se andate a farne la struttura di Lewis, ecco quindi vi ho scritto qualcosina appunto inerente questo fenomeno, quello che vi ho spiegato essenzialmente adesso. Quando abbiamo una molecola, come nel caso che abbiamo visto, come nel caso dell'ione carbonato, che è descritta non da una sola struttura di Lewis, ma da due o più strutture di Lewis, allora chiameremo le singole strutture di Lewis strutture limite di risonanza e la molecola è una struttura di di risonanza. Allora, guardiamo questo esercizio, abbiamo questa molecola, questa molecola è un chetone, però a voi non interessa perché ancora i chetoni non li abbiamo trattati, a me non interessa che voi sappiate per adesso come vi dicevo le classi delle molecole organiche, vi basta sapere quello che vi ho detto fino ad ora, perché se io vi do questa molecola voi siete in grado di andare a farmi le possibili strutture limite di risonanza. Che cosa vedete in questa molecola? Vedete che abbiamo un atomo di carbonio legato con doppio legame covalente a un ossigeno, dall'altra parte l'atomo di carbonio è legato a un gruppo metile e dall'altra parte a sinistra a un gruppo metile. Ora, il doppio legame covalente, secondo voi, dove si potrà spostare e naturalmente non andrà a spostarsi verso l'atomo di carbonio formando un doppio legame covalente carbonio-carbonio, perché il gruppo metile è un gruppo stabilissimo, non è presente una differenza di elettronegatività tale per cui questo atomo di carbonio debba attrarre a sé, abbia la forza necessaria per attrarre a sé gli elettroni di legame coinvolti nella formazione di questo doppio legame. Quindi non accadrà mai che questo doppio legame, gli elettroni di questo doppio legame passino da qui a qui a destra, secondo questa direzione verso, andando a creare un doppio legame covalente carbonio-carbonio, nemmeno a sinistra, perché sono due strutture già stabili per come sono, quindi per quale motivo noi dobbiamo andare a creare questi doppi legami covalenti? È un qualcosa che in natura non accadrà mai. Cosa invece può accadere? Vediamo che l'ossigeno è altamente elettronegativo e qui abbiamo un doppio legame covalente che coinvolge proprio l'ossigeno. Allora quello che può succedere, naturalmente con maggiore probabilità, è che l'atomo di ossigeno prenda con sé gli elettroni coinvolti nella formazione di questo doppio legame covalente. E quindi allora andiamo a fare questo spostamento del doppietto elettronico dal doppio legame covalente verso l'ossigeno. Mettiamo una freccetta in questa direzione verso, ecco in questo modo. quindi questa freccetta ci sta ad indicare che l'atomo di ossigeno elettronegativo si frega gli elettroni coinvolti nella formazione del doppio legame. E quale sarà il frutto di questo spostamento del doppietto elettronico? Ovviamente se i due elettroni coinvolti nel doppio legame covalente saltano a livello dell'ossigeno, ecco qui ne abbiamo due, quattro e sei, allora l'ossigeno avrà una carica negativa che prevale e l'atomo di carbonio. Allora l'esercizio rappresenta le formule limite di risonanza della seguente molecola. Vediamo che questa molecola cosa abbiamo? Abbiamo un atomo di carbonio legato da una parte a un gruppo metile, dall'altra con un doppio legame covalente a un ossigeno e dall'altra con un legame covalente singolo a un ossigeno, questo ossigeno ha carica negativa, ogni atomo raggiunge lo tetto e questa molecola qui come possiamo rappresentarla con le formule limite di risonanza? Questo gruppo funzionale sarebbe il gruppo funzionale carbossilico dissociato, vi ricordo che il gruppo carbossilico è un gruppetto di atomi rappresentato da un atomo di carbonio legato con doppio legame a un ossigeno da una parte e con legame covalente a un gruppo alcolico OH. In questo caso si è dissociato un protone, questo ossigeno cosa ha fatto? Si è fregato l'elettrone dell'atomo di idrogeno e l'atomo di idrogeno è andato via sotto forma di protone, quindi ecco la forma ionica dissociata COO-. Quindi la molecola la dovete prendere così per come la vedete. Sono presenti strutture di risonanza, strutture limite, formule limite di risonanza è presente il fenomeno di risonanza? Se si allora indichiamo queste strutture, come possiamo procedere. State ben attenti a questo esercizio, allora dobbiamo anche qui rappresentare le formule limite di risonanza della seguente molecola. Noi abbiamo questa molecola qui, è uno ione molto instabile e ora vi faccio capire perché. Cosa vedete innanzitutto? Un atomo di carbonio legato a un doppio legame covalente con un atomo di ossigeno, dall'altra parte ho un idrogeno, dall'altra parte ho un atomo di carbonio, guardate questo atomo di carbonio qui particolare, è legato a due atomi di idrogeno e a un doppietto di elettroni. Ora, l'atomo di carbonio fa parte del quarto gruppo A della tavola periodica, gli elettroni che sono in grado di andare a formare legami covalenti sono quattro, quindi voi quando andate a fare la struttura di Lewis, mettete un atomo di carbonio, scrivete C e poi scrivete quattro puntini, uno in alto, uno in basso, uno a destra e uno a sinistra, invece qui ve ne vediamo cinque, uno e due in questo doppietto, tre, quattro e cinque, questi tre sono coinvolti nell'instaurare legami covalenti con gli atomi che vedete attorno, però vedete che quindi complessivamente questo atomo di carbonio ha un elettrone in più rispetto alla norma, quindi è un atomo di carbonio nella sua forma anionica, è un anione, ha una carica negativa in più, infatti mettiamo questo piccolo meno in alto a destra. Come abbiamo visto in precedenza i carbocationi, in chimica sono anche presenti i cosiddetti carbonioni. Quando abbiamo un atomo di carbonio che ha un doppietto elettronico, quindi in questo caso non è un doppietto elettronico condiviso, questo atomo di carbonio ha essenzialmente un elettrone in più, quindi una carica negativa in più, allora prende il nome di carbonione, è estremamente instabile e in natura tenti a reagire all'istante. Ora voi dovete rappresentare le formule limite di risonanza della seguente molecola. Essendo instabili i due elettroni a questo livello, naturalmente che cosa, quale possono mai essere le formule limite di risonanza in questo caso? Che cosa potrà succedere? Naturalmente quello che può succedere è che l'elettrone, ecco il doppietto elettronico non condiviso dell'atomo di carbonio, quindi nel carbonione, che cosa fa? Salta da questa parte qui in modo tale da formare un doppio legame covalente con questo atomo di carbonio, in modo tale che si stabilizzi la situazione. Ma perché nel complesso si stabilizza la situazione? Perché questo è possibile, perché al tempo stesso l'atomo di ossigeno, essendo estremamente elettronegativo, si frega il doppietto elettronico, i due elettroni qui coinvolti nella formazione di questo doppio legame covalente. Ecco quindi che cosa succederà dal movimento di questi due doppietti elettronici. Si creerà un doppio legame carbonio-carbonio a questo livello e l'atomo di ossigeno avrà una carica negativa. Quindi adesso vediamo il frutto di questo movimento. Ecco, se guardate qui a destra, il doppietto elettronico che era qui presente, nel livello del carbonio, forma un doppio legame covalente con questo atomo di carbonio. E questi, e il doppietto elettronico, i due elettroni coinvolti, che erano coinvolti nella formazione del doppio legame carbonio-ossigeno, saltano al livello dell'ossigeno, quindi l'ossigeno, vengono fregati dall'ossigeno altamente elettronegativo, quindi l'ossigeno ha una carica negativa in più, non si ha più il carboanione, il carbanione, l'atomo di carbonio raggiunge l'ottetto, e ogni atomo qui di per sé raggiunge l'ottetto, e qui però non è presente più il carbanione. Ora, però, è naturale che la nostra molecola è un ibrido di risonanza tra questa struttura e questa struttura, che è la nostra molecola che abbiamo rappresentato inizialmente, quindi non esiste questa struttura, non esiste questa struttura, ma è un ibrido, ciò che esiste è un ibrido tra questa struttura molecolare e questa struttura molecolare, quindi anche qui dobbiamo fare le freccette in modo tale che arriviamo alla situazione di partenza, quindi che cosa succede qua, succede che l'atomo di ossigeno avendo una carica negativa è instabile a sua volta, quindi tende a trasferire un doppietto elettronico in modo da creare un doppio legame covalente ossigeno-carbonio e di conseguenza questo doppio legame covalente ritorna nel carbonio di partenza, e quindi si ha un movimento di cariche in questo senso, e come vedete, grazie. 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 Grazie.